Noi puntiamo molto sull'educazione, parlavamo anche stamattina con l'assessore all'ambiente, pensiamo che la gente debba essere attenta a curare l'ambiente, il paesaggio. Abbiamo chiesto a Marche Multiservizi di potenziare il centro di raccolta, dove tutto quello che uno ha può portare lì gratuitamente. Quindi ci sembra assurdo vedere divani, calcinacci, bottiglie di plastica, sembra una cosa assurda, impossibile, intollerabile e quindi abbiamo detto a chi deve fare i controlli di fare tutti i controlli, ma se ognuno di noi rispetta le regole non c'è bisogno nemmeno di fare i controlli. Quindi facciamo un appello molto accorato a tutti i cittadini che si può e si deve, si dovrebbe portare tutto al centro di raccolta a Montecchio, nell'area vicino al depuratore, dove c'è il centro di raccolta di Marche Multiservizi. Tra l'altro c'è anche uno scambio di cose positive che ti danno, io per esempio porto la carta e mi danno la possibilità di avere dei benefici, delle piante, delle cose che servono alle persone e poi insomma spero di non vedere più da nessuna parte, tanto più, nelle zone come le zone coldelce, le zone culinari che sono di una bellezza paesaggistica straordinaria, ma anche nelle zone industriali perché dobbiamo mandare gli operai a raccogliere robe perché qualche fesso butta le cose dove non deve buttare. Ecco, ci appelliamo alla comunità, la gente sta attenta, deve stare sempre più attenta, come fanno per il covid, che devo dire, dobbiamo anche ringraziare perché abbiamo avuto un bel calo di gente infettata perché vuol dire che hanno cominciato a capire che tocca stare molto attenti. Per esempio noi abbiamo lasciato le aree ciclopedonali, i cimiteri, i parchi, i giardini, abbiamo tolto le limitazioni, però questo non vuol dire che tocca stare attenti, tocca rispettare le regole e per l'ambiente è una ragione in più perché è un segno anche di maleducazione, insomma. Ecco, però siccome siamo ottimisti, fiduciosi, speriamo che la gente porti nei bidoni dell'immondizia, c'è la raccolta differenziata, siamo oltre il 70%, una buona percentuale di raccolta differenziata, è impeccato trovare queste cose che danno una pessima immagine, tanto più che ci abbiamo verso la stagione estiva, quindi vengono anche i turisti, le persone da fuori, trovano una città ben ordinata, ben pulita, merito dei cittadini se tutto questo avviene. Io ringrazio a nome dell'amministrazione tutti quelli che si comportano correttamente, che sono stragrandissima maggioranza, anche quelli che hanno fatto qualche cosa che non va bene, non lo facciano più, insomma.